Davide Nitrite, Real Madrid, squadra che è arrivata in finale portando tre volte le partite ai calci di rigore, una squadra che ha lottato tantissimo, la vittoria è mancata per poco. Buonasera a tutti, siamo stati un po' sfortunati perché oggi abbiamo avuto qualche defaianza a preverso della partita, poi qualche compagno ha avuto qualche piccolo fastidio muscolare, quindi abbiamo giocato praticamente due partite su tre con l'uomo in meno, quindi è stata dura però ce l'abbiamo messa tutta e l'importante era non perdere, quindi abbiamo messo un minutaggio nelle gambe, siamo pronti per questo torneo. Abbiamo visto non mollare mai, la seconda partita la perdevate dopo 8 minuti 2 a 0 e l'avete ripresa anche con un tuo gol, l'ultima, la finale contro Illicia, siete andati molto vicini da riprendere, avete ripreso la partita, avete rischiato più volte il gol del vantaggio. Sì, abbiamo cercato di ribaltare il risultato, purtroppo tutte e tre partite siamo partiti svantaggio, però comunque la squadra ha reagito bene, sono contento perché comunque è da qualche mese che giochiamo insieme, quindi l'importante è non mollare e l'abbiamo fatto, quindi ci faremo trovare pronti fra qualche settimana. Ringraziamo Davide Nidride per l'intervento post-orneo. Grazie.